perché non comprare ora bitcoin a 4.900 più o meno in questo momento se poi tanto tornerà sicuramente a 10.000 dollari non potrebbe comprare adesso e aspettare qualche mese che torni a 10.000 dollari per poi raddoppiare il mio capitale ciao ragazzi bene bentornati in questo nuovo video mauro caimi qui con voi ancora una volta questa è stata la domanda che mi è arrivata da un mio carissimo amico anche se ci conosciamo solo online alessandro mi ha scritto mi ha mandato un vocale mi ha scritto questa cosa per capire un po' se questo modo di ragionare poteva essere corretto o meno ci sono delle peculiarità su questa domanda che mi ha fatto che penso siano anche delle domande che mi flurre in testa un po' a tutti voi e quindi ho pensato facciamo un video per capire se questa logica operativa può avere un senso la domanda ve la ripeto ragazzi è questa comprare ora in mercato bitcoin e aspettare qualche mese perché tanto sicuramente ritornerà a 10.000 dollari perché l'ha già fatto sempre l'ha fatto tantissime volte questa è la domanda che mi ha fatto alessandro adesso andiamo a fare una bella cosa guardiamo un grafico di bitcoin in questo momento che è anche un grafico di lungo periodo quindi non è un'analisi a breve ragazzi guarderemo un'analisi di lungo periodo andiamo a vedere un po' che cosa ci mostra questo grafico cosa ci mostrano i prezzi e allo stesso tempo andiamo poi a fare le riflessioni su questa domanda per capire se è giusto ragionare così se è vero o meno oppure dove sono diciamo i giochini va bene prima di andare però sul grafico ragazzi due cose mettetevi un mi piace su questi video e iscrivetevi al canale chi di voi non sia ancora iscritto stiamo facendo una serie di video importantissimi in questa fase per tutti quelli che sono investitori trovate in descrizione tra l'altro tutti i servizi che ho messo in atto anche gli SOS e i salvagente per chi di voi vuole capire come sta andando il proprio portafoglio se è stabile o non stabile ha bisogno di parlare con me ragazzi trovate in descrizione tutti gli SOS e i paracadute che sono riuscito a creare il prima possibile ragazzi non potevo fare prima di questo per chiunque sta avendo diciamo problemi anche sulla proprio gestione di portafoglio e poi scrivetemi nei commenti quello che pensate di queste analisi qual è il vostro punto di vista per me è fondamentale questa cosa ragazzi a me piace molto la community non so se l'avete capito infatti diciamo sono un community man parliamo così allora siamo sul grafico per rispondere alla domanda di Alessandro in questo momento comprare bitcoin abbassa un po' la luce ragazzi che secondo me sono illuminato troppo ok andiamo a vedere allora grafico di Bitstamp ragazzi grafico settimanale di lungo periodo per quanto riguarda bitcoin ragazzi allora funziona logaritmica quindi in questo momento questa diciamo lo sapete bene che questa non ha alcun valore era prima insomma era messa prima perché quella valore solo se non siamo in versione logaritmica quindi in sostanza la dovremmo valutare solo così ragazzi ma anche così è valutabile quindi io vedete poi quando la lascio cambia quindi ora la togliamo allora quello che sta succedendo in questa fase per quanto riguarda bitcoin ragazzi allora questo è bitcoin dal 2011 2012 circa e sono le sue oscillazioni Alessandro ci dice perché non comprare ora bitcoin e aspettare che arrivi a 10.000 intanto metto il target in questione 10.000 dollari che è esattamente qui perché dici ci arriva sempre a 10.000 dollari ci arriva sempre allora prima prima riflessione ci arriva sempre vero o falso andiamolo a vedere allora ragazzi bitcoin e ha toccato 10.000 dollari in questi momenti particolari quindi giugno del 2017 e fino al 2018 dopodiché l'ha toccato a giugno del 2019 e adesso in questo momento a più o meno che cos'era questo febbraio del 2020 quindi bitcoin torna sempre a 10.000 dollari tre volte cioè tornato negli ultimi due anni ok tre volte in due anni ha toccato i 10.000 dollari allora sicuramente c'è da riflettere lo faremo alla fine del video perché non voglio dare conclusioni azzardate però c'è una riflessione da fare che è fondamentale ragazzi allora quando statisticamente valutiamo un dato adesso vi faccio ridere chiaramente non lo possiamo usare in questo caso comunque statisticamente per dire che è un dato o una cosa che è avvenuta in questo caso il ritorno di bitcoin 10.000 è valido è significativo lo sapete quante volte deve accadere ve lo dico però non vi arrabbiate 400 ragazzi 400 volte per avere significatività per dire che ha un movimento che è significativamente importante quindi io lo posso utilizzare come forma di probabilità ok 400 volte qui parliamo di tre casi ragazzi quindi questa cosa però ve l'ho voluta dire però è importante ragionare quando voi fate i ragionamenti e dite sempre è andato sempre lì è andato sempre così è andato sempre ragazzi significa che avete visto due volte questa cosa non significa sempre sempre è un ragionamento matematico che ha un numero e se voi parlate così matematicamente statisticamente dovete vederli 400 volte questi atteggiamenti quindi se li avete visti non è un numero casuale è proprio 400 ragazzi allora se li avete visti 400 volte possiamo parlare di un sempre statistico quindi un'ottima probabilità ma in questo caso è una casualità è randomico il problema cioè casuale non è dovuto a una forma statistica poi c'è da fare un'altra considerazione che adesso faremo quindi intanto smontiamo il fatto che bitcoin torni sempre a 10.000 dollari perché c'è tornato 1, 2 e 3 volte in due anni quindi non c'è stato neanche su vi dirò ancora una volta se dovessi fare un ragionamento e dire qual è il prezzo che negli ultimi due anni bitcoin in media ha sempre avuto è questo ragazzi la media esattamente la media o a 200 periodi che è questa qui che vedete qui la media settimanale oppure se vogliamo farlo dal punto di vista ad esempio di barra di congestione potremmo dire che il prezzo medio è qui 6.500 quindi questo è ragazzi allora se io dovessi dire in media bitcoin negli ultimi due anni che prezzo ha avuto 6.000 6.500 come prezzo questo è stato il prezzo di bitcoin ragazzi ed è importante valutarlo nel famoso lungo periodo quindi due anni in questo caso è importante valutarlo quindi primo punto smorsato il target che 10.000 ragazzi è un target alto cioè la parte alta del target potrebbe non arrivarci mai più ovviamente io spero di no però va considerato come la parte alta del target in questione quindi in realtà questo sempre ragazzi non è così seconda cosa mi conviene comprare adesso bitcoin aspettare che magari ho detto anche io ragazzi ok 6.500 6.700 può essere il prezzo medio allora io che faccio compro qui aspetto che il mercato arrivi qui e vendo e faccio un profitto ancora una volta sì giusto questo è trading ragazzi infatti noi facciamo trading sul canale trading on io faccio questo in questo momento però non sono posizionato su bitcoin per il trading ho bitcoin in hold ragazzi per alcune situazioni che devo fare questo ve l'ho sempre detto però non ho bitcoin per il trading e la parte trading in questo momento è tutta flat perché ragazzi perché il momento è molto particolare molto importante molto difficile in questo caso quindi nulla mi dice in questo momento che bitcoin effettivamente vada di nuovo qui non me lo dice nessuno questo e questo è il problema non è vero che è sicuro che ci va cioè se fosse sicuro ragazzi ci sarebbero già 6.500 perché guardate un po' qual è il discorso dei mercati se i mercati pensano che un prezzo è un valore che in futuro un asset toccherà i mercati ci vanno subito a quel prezzo quindi noi non avremo bitcoin a 4.800 dollari in questo momento lo avremmo già a 6.500 o come sta dicendo Alessandro 10.000 perché lo abbiamo a 4.800 perché i mercati in questo momento stanno dicendo bitcoin vale 4.800 ragazzi il valore di bitcoin in questo momento è 4.800 il valore futuro di bitcoin non lo sa nessuno è una previsione e quando noi andiamo a fare una previsione noi possiamo sbagliare e qui di nuovo casca l'asino mi piace sempre dirla questa frase quindi quando si ragiona in termini di investimento voi dovete ragionare sul fatto che il futuro è imprevedibile e che se voi pensate di poter avere un target sul bitcoin in questo caso che magari è 10.000 dollari dovete ricordarvi che questa cosa è frutto della vostra fantasia in questo momento e che il mercato ci può andare come anche non andare e quindi dovete dire bene io questo investimento lo voglio fare ok però mi assumo completamente il rischio che questa ipotesi questo mondo immaginario che ve lo ridisegno ragazzi il mondo immaginario sarebbe questo ok questo mondo immaginario magari non avviene mai non avverrà mai ragazzi non avverrà mai non lo sappiamo allora a quel punto io dico ok l'investimento lo faccio io ragiono comprando la bitcoin perché spero che arrivi a 10.000 o le mie strategie o le mie idee ma se non ci arriva mai amen ho buttato i soldi se non mi interessano oppure chiudo qui ecco quindi questo significa costruire una strategia di trading ragazzi ok ed è anche per questo che il trading è stratosfericamente importante soprattutto in questo periodo voi potete anche non fare i trading nella vita ragazzi perché è stressante non lo consiglierei però è una delle materie più appassionanti del mondo quindi per questo mi piace tanto ma è stressante ok potete anche non farlo ma non potete non conoscerlo che è un altro discorso ragazzi voi la formazione di base sul trading se fate gli investitori la dovete avere assolutamente è impossibile non averla perché se non l'avete ragazzi non comprendete una realtà non comprendete come si muove una realtà e quindi mi dispiace ma anche il vostro lato investimenti non andrà a buon fine ragazzi perché non potete andare in bicicletta se non sapete come si pedala ok questo è il concetto ed è insomma molto semplice anche da capire quindi in questo momento una cosa bitcoin ce la sta dicendo per concludere il video facendo anche diciamo ora un'idea importante su quello che ci sta dicendo di lungo periodo farò comunque un video sul canale guardate una cosa ce la sta dicendo bitcoin in questo momento ragazzi che comunque è in una barra di congestione di lungo periodo non è più in un trend di lungo periodo positivo perché anche questa settimana vedremo come chiuderà ma stiamo per rompere la media mobile addirittura a 200 periodi sul week sulla settimana quindi bitcoin sta andando a confluire in una congestione di lungo periodo qual è questa congestione che range ha guardatelo qui ragazzi ok è un range erorme vedete tra 10.000 e 3.000 al momento è questo ragazzi è un range quindi bitcoin è in trend in trading range quindi se io dovessi dire trading range come si opera chi di voi lo sa con alcune strategie di trading che non vi dico in questo video ne faremo altri ragazzi sto mettendo a punto queste strategie anche per l'academy come sempre perché bisogna aggiornarsi e that's it vi ho detto tutto quello che penso quindi nel momento in cui devo fare un ragionamento del dire tanto prima o poi raddoppia bitcoin in questo caso ritorno a 10.000 devo stare attento a quello che dico perché intanto non ci è sempre andato ci è andato tre volte in due anni intanto non è il suo prezzo medio di questi due anni perché il prezzo medio di questi due anni 6.500 intanto è una tra l'altro livello di prezzo ragazzi che io vi dirò anche un'altra cosa se ci arriva ma può essere anche che non è il target che si chiede di rompere ok e quindi lo sappiamo e non siamo nemmeno in una fase di minimo perché la fase di minimo coincide con circa 3.000 in questo momento della barra di congestione quindi se si vuole fare questo tipo di ragionamento si potrebbe anche prendere atto di questo ragionamento però bisogna anche tenere in considerazione che il mercato potrebbe non fare quel target e quindi non è vero che c'è un sempre non è vero che c'è una sicurezza nei mercati finanziari questa sicurezza non esiste mai c'è solo una sicurezza che possiamo stare certi che è così e che oggi bitcoin vale 4.800 dollari questa è l'unica cosa che sappiamo con certezza bene ragazzi ci vediamo prossimamente sul canale sto facendo un sacco di video quindi iscrivetevi al canale non mi abbandonate in questo momento ok ciao a tutti